Sì, è pronto? Sì, tra 30 secondi puoi sparare. Sì. Anche prima. Mi faccio fare, mi faccio fare, mi faccio fare. No, 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 ok. No, no, sì. Sì, giù. Va bene, va bene, va bene, va bene qua. No, smarci. Scusi, sì. Ah, sì. Ah, sì. Scusi, sì. Scusi, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.